Il nostro furio non era in campo per una brutta lombosciatologia e mentre lo Tufo e lo Climi giocavano con delle infiammazioni al ginocchio e siamo recuperati proprio all'ultimo, tra l'altro il nostro lo Climi era affetto da una tonzillita e era sotto terapia antibiotica. Nonostante questo, dicevo, il coach è stato bravissimo a ruotare tutti, compreso gli under con cui abbiamo finito la partita, i tre ragazzini che hanno bagnato l'esordio in Serie D in questa maniera bella fantastica. 13 vittorie, abbiamo fatto 13 al totocalcio, torniamo indietro di tanti anni e adesso iniziamo il genone di ritorno, abbiamo messo 6 punti sulle inseguitrici lo scontro diretto a vantaggio. Non voglio dire nient'altro, ma dobbiamo suicidarci per fare quello che non dobbiamo fare. Grazie Presidente. Grazie. 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 Grazie.